Il prossimo pezzo io lo dedico sempre a tutte le ragazze che suonano e che fanno delle cose in generale, quindi a quelle ragazze che non si sa bene dove sono, ma ci sono, sono sicura. E poi la dedichiamo anche a Radio C.Roma perché siamo assolutamente onorati di essere in tutto questo mondo. Grazie. 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 Grazie.